Ministro, buonasera a Giovanni Giuliani. Io parto dai numeri. Sesta vittoria di fila, quattordicesima gara senza subire gol e questo forse è uno dei dati più importanti di questo cammino e soprattutto altra giornata perfetta perché aumenta il distacco sulle terze. Cos'altro c'è da aggiungere, mister? C'è da aggiungere che stiamo facendo un campionato strepitoso. Io sono orgoglioso dei ragazzi che ho a disposizione perché comunque anche oggi la partita era impegnativa, era difficile, invece siamo stati bravi a farla bene, a farla seria e comunque a battagliare quando c'è da battagliare, ad andare in vantaggio quando abbiamo avuto l'occasione e poi anche agevolati ovviamente dalla superità numerica l'abbiamo conclusa in maniera positiva, molto positiva. Ti faccio due domande. La prima, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Questa frenesia in alcuni casi, non so cosa chiederti. La seconda, fammi tu la domanda a me, nel senso di tu quello che vuoi dire perché onestamente non so più cosa chiederti. Per quanto riguarda la prima, sicuramente abbiamo avuto l'occasione, poi non è mai facile perché tante partite poi quando rimani con l'uomo in più diventano difficili perché abbassi i ritmi e invece poi ti va a mancare un giocatore che poi gli avversari avrebbero lasciato avanti e comunque se non la fai bene vai incontro a delle difficoltà e invece noi l'abbiamo fatta bene, abbiamo riconosciuto i spazi giusti, abbiamo giocato semplice poi abbiamo cambiato il ritmo quando c'era da cambiarlo. Avremmo potuto concretizzare di più però insomma la partita è stata fatta bene e la cosa importante adesso è metterla da parte e guardare avanti perché avanti poi in questo campionato come peschi peschi, peschi partite complicate, difficili, ostiche, devi essere bravo come dico sempre ma è la verità, a recuperare energie e a presentarti a livello alto perché quando non sei a livello alto questo è un campionato, tutti i risultati lo dicono che va incontro a delle difficoltà. Noi invece sappiamo che le difficoltà ci saranno e saranno anche numerose però sappiamo anche che abbiamo le qualità per poter fare una grande partita anche la prossima. Correggimi se sbaglio, dopo 5-10 minuti nei quali abbiamo avuto una chance con Lucioni e con Cotali mi è sembrato un po' di nervosismo in campo tra i ragazzi, non il Frosinone che abbiamo abitualmente imparato a conoscere poi dopo il gol ci siamo sbloccati, questo è figlio della posizione di classifica e del fatto che il Frosinone adesso deve rispondere da prima della classe? No, questo è figlio di aver incontrato una squadra che penso nei primi 15 minuti abbia fatto 15-16 falli il gioco era molto spezzettato, comunque è una squadra che ti mette in difficoltà perché racchiude tanti giocatori in breve spazio quindi devi essere bravo quasi a giocare a calcio e non a calcio e poi ti buttano questa palla alle spalle, ti allungano e ti mettono in difficoltà quindi la partita non era affatto facile, siamo stati bravi a farla bene inizialmente l'abbiamo sbloccata e poi agevolati anche dalla superiorità numerica l'abbiamo continuata in maniera positiva e ci portiamo a casa una bella partita e un bellissimo risultato Ciao mister, da allenatore del Frosinone hai tanti pensieri, io te ne voglio dare un altro quest'oggi chiedendo di un consiglio i tifosi del Frosinone oggi hanno il sacrosanto diritto di esaltarsi, di cantare la capovista se ne va perché il tifoso di calcio, di pallone, questo deve fare i cronisti invece, questa è la mia domanda secondo te chi oggi ha un microfono, un mouse o una penna in mano deve in qualche modo trasmettere un messaggio del tipo rimaniamo con i vedi per terra oppure azzardare come ha fatto prima in privato l'amico Giovanni Girani che mi ha detto noi abbiamo il campionato in mano quindi ti chiedo un consiglio ad una categoria che tu conosci bene e ti do un pensiero in più, se posso Bella domanda sono abbastanza stanco da... no però... ovviamente il campionato è un campionato importantissimo quello che stiamo facendo il margine lo vediamo, siamo stati bravi ad ottenerlo però ho sentito anche altri allenatori più bravi di me che l'hanno fatto quando lo ottieni poi come sei stato bravo tu a farlo gli altri possono essere bravi a incanalare dei filotti noi non dobbiamo pensare a dopo perché abbiamo sempre fatto così e la nostra forza è quella di continuare a fare così sapendo che, io dico sempre ragazzi, che le partite sono difficili che i risultati finali non si possono decidere siamo stati bravissimi a ottenerne tanti positivi potrà capitare, mi auguro di no, che ce ne sarà qualcuno meno positivo ma la bravura deve essere quella di preparare le prestazioni e prepararle bene poi quando vai in campo facendo il tuo meglio di solito ottieni il risultato migliore che puoi ottenere delle volte può non essere quello che ti piace però la bravura è quella di prepararsi bene e fare delle belle partite piene con tutti gli interpreti perché è importante che tutti si sentano dentro perché ne abbiamo bisogno di tutti come l'ho sempre detto perché comunque è un gruppo che ha dei valori tecnici ma anche umani ed è bello preparare le partite in questa maniera senza andare a guardare troppo oltre poi insomma il tempo passa e quindi oltre arriverà se saremo stati bravi a continuare a fare questa cavalcata ci prenderemo tutte le soddisfazioni del caso Ministro, buon pomeriggio Alessandro Andrelli di G24 le chiedo si è sempre parlato di grande tecnica di grande capacità di questo gruppo la mentalità cresce di partita in partita di gara in gara non so se è d'accordo con me e quanto alla luce del fatto che Lucioli non ci sarà a Palermo sarà ancora più importante quella mentalità che chi va in campo a prescindere che sia il capitano o un altro può sicuramente recitare un ruolo da protagonista è quello che ti potrei rispondere con quello che ho detto poco fa perché è proprio così ovviamente perdiamo un giocatore importantissimo nella squadra sfortunatamente nell'arco di questo campionato diversi ne abbiamo lasciati ogni tanto per strada anche per scontri, per fratture, per infortuni vari la forza di questo gruppo è sempre quella di saper rispondere alle prestazioni e l'obiettivo nostro è quello di fare una grandissima prestazione in uno stadio che io conosco molto bene sarà caldo, spingerà i suoi giocatori al massimo però sul campo insomma saremo noi contro di loro e cercheremo di rendergli la vita dura nonostante ovviamente avranno tutte le intenzioni di provarci a battere Sì, a quella di Palermo ha già risposto quindi poi avremo nel pregara senti mister, avevi il Ferentino nel tuo destino perché col Ferentino da ragazzino hai perso una finale importantissima e a Ferentino stai costruendo le tue più belle soddisfazioni della ancora giovanissima carriera d'allenatore Speriamo di invertire il finale allora Purtroppo Carlo ha avuto male al ginocchio ha sentito qualcosina ora lo controlleremo con le visite del caso mi auguro che possa essere niente di grave però insomma non so risponderti bene la sua sensazione ovviamente era molto triste e pensa di aver fatto qualcosina io mi auguro che non sia niente di grave perché comunque è un ragazzo che ha preso un bel ritmo è un ragazzo serio, è un ragazzo che ha le qualità è un ragazzo che stava dimostrando quelle che sono tutte le sue doti e sarebbe un peccato perderlo e quindi mi auguro che non sia nulla di grave grazie